ma proprio banu chi se ne frega di avere un canale youtube chi sembra farà come fogliettina che prendi il telefono lo metti davanti allo schermo e come provina ragazzi perché il resto delle lune erano occupate cos'è che fai e cos'è che fai a cosa indietro indietro ok tranquilla tranquilla tu vai su ma ma cosa fai cosa c'è qualcosa da prada c'è no vabbè amo guarda sta borsetta amo c'è no dai c'è no ecco le nuove le nuove game dai facciamo un blog amo io sto rompendo tutte le pareti per te amo frappi come era un po pure il core no seriamente dove sei ho sentito pistone ma dove sei in stella ti verrà a cercare per te il mondo per poi ucciderti vorrei che tu ti possa girare a zidermi c'è no ehi amore amore dove sei ma dove sei c'è no è stata appena comprata la cucina è stata appena i i i i i i i sono morta e sono centra meno che state facendo allora credo che luna non riuscirà adesso superare i 20 anni perché mi ha fatto vedere l'infermazione scudo formazione scudo minchia su sta mappa ci sta un voto la portano napoletano aspettate aspettatori dani da venite 321 vieni qua aiuto let's go da nana 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 aspetta aspetta non è la testa che ho dietro ho un hp dai abbastanza che sui compagni no ok abbiamo capito che sta formazione non funziona in classificata già già è in più con i napoletani cosa va il 5 contro 4 allora ci sono io code 07 mi esterno pesco italiani 0 2 non 0 7 io ti chiamo 0 2 aspetta vedi che il mio cervello sta esplodendo ottimi riflessi di gesù cristo questo non lo prendo io guardo mister una testa l'ultimo sledge credo in te si si è sledge l'ultimo sledge si era sledge era vai in d2 che farei no se stare in d2 non troverete le camere uno eh si senta la porta qui dai 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 ce la facciamo senza sparare colpi ok 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 madonna no no basta banger banger per l'una perché allora vai con la cartella ok fatto adesso riepio un'altra registrazione allora let's go uccidi tutti uccidici ma non posso ma non posso non ce li ho più perché non uccidi no perché ciao